a tutti ragazzi di 76 e benvenuti in questo nuovo episodio di questa nuova serie con il buono il cattivo e il brutto e anche il buono il brutto il cattivo è sempre e vabbè ma non fa nulla se non è l'ordine non lo metti e te le vanno eccolo qua ecco la quale te le vanno aia aia allora prima di iniziare l'episodio vi invito a iscrivervi a tutti e quattro canali così da non perdere il meno l'episodio si mette i cattopo dice che non li faccio mai iscritto ma è quello ok per dirlo bella è questa benissimo e allora oggi come vedete non è un po di ordine un po metto dei porti qui il nostro articello ho fatto messo la spazio dissi se cazzo l'ha trovata qua l'altra ma andiamo a buccare tutte le porte ho ammazzato uno zumbi allora dobbiamo dobbiamo ragazzi distruggere tutte le porte e metterci a quelli che vengono l'hotel no 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 non libero e non i blocchi che cosa di fare rompi le porte e mettici il legno e cancelletti capito ah è vero non possono spaccarmi è vero 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 infatti e mi vuole se vieni con me io ero un po di legno umi spazio delle porte possibili immaginabili a tempo fallo apportate ragazzi amide anche io ci lo decimo ma io ho scoperto ammigico mi vado con mitico per andare l'anima cosa posso posso cuocere le patate prima dj vieni a darmi una mano tu tu e io ho una pancela umi mi dà per favore due stecchini che mi faccio una pala no scusa una pala una c'era una pala no cosa ti serve no nasce non ce l'ho come diamine se facevano si fancelletti dammi due li faccio io si fanno con metà con 4 di 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 cosi di stecchini più due blocchi in mezzo ah ah in contrario sti stronzi mi fai in passi per favore due stecchini grazie nooo dammi nooo esattato sopra di ecco mentico ok e adesso ripianta anche la patata che ho preso tolta la lancio no dai non ho voglia muovere facciamo così apposta tieni mitico dovaco hai eh vabbè lui cioè quella più nada vabbè eh io c'ho quella di legno va andiamo andiamo allora mentre facciamo delle esplorazioni fate bravi voi a casa eh mi raccomando eh mi raccomando niente cosa è scena ah Omi o te fai una cosa Omi uno nel commento mi scrisse fate le fetch di cobblestone è vero è vero eh Omi ce l'hai io la cobblestone tu la vuoi no non lo sa per fare cosa non ho capito fai le fetch di cobblestone invece di un po' di Eh ma poi non ho fatto quattro Ci fai essere normali No no Eh ma perché hai fatto quelle normali Che seguivano Allora Mitico ci ha detto che No da me No non ho capito io Allora Dici posso circondare l'area Sì 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 quella l'altra Diciamo del Eh porca miseria Eh beh ha capito insomma Ok andiamo Allora Gigi prendi queste Io è Mitico Ragazzi allora io è Mitico Sì sono qui Abbiamo scoperto Diciamo un piccolo posticino Dove ci sono un po' di alberi Così io L'avevo ragazzo Mi sono preparato una spada in ferro Che avevo già Ecco i nostri alberi L'ho trovato una piccola oasi Ah ha detto c'è anche tipo il laghetto C'è laghetto Figo No hai preso un po' di ferro Prima è un uomo il secchiello Ah no Ce l'abbiamo l'acqua vero Pecore Pec Un pecore Buona Pec E' maiale Ottimo Non uccidere i maiali 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 Ah ci serve anche E' anche Siamo dei poveri Non abbiamo legno Esatto E' me la sorpresa Dalla presenza di un maiale C'è un maiale Eh ma poi ce ne sono proprio Quale è di cibo Di cibo facciamo vegetarani ormai L'ultima qual è la giù La casetta di grigetta di merda Ah comunque Ragazzi abbiamo perso due piccoli amici Nella notte Cavalli No no Cavalli Paisani abbiamo perso Nella notte Ah non è vero Sì Mi abbiamo perso Non è vero Ah sì 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 L'abbiamo perso giusto Non ci sono più morti Oh le funghi Le funghi Le funghi Ma è umido Aspetta al bar Ci spacchiamo Dai andiamo a spacchiamo No bro Non abbiamo più pepite Siamo poveri Non possiamo Per metterci la birra Si fanno di blue light Come si chiama Blue beer light Allora prima di spaccarci a merda Lavoriamo ancora un pelo Sì sì Mi dico io però che Direi che se pianti altri alberi Hai preso qualche sample Per caso Mi sa che Prendi questi bro C'erano 9 diabete Ok piantri un po' in giro Non ci siamo sicuri Di non L'aria Io direi più di sentarli Vicino a casa In effetti In effetti E come un po' di questa roba Dobbiamo rispondare l'aria Ci dobbiamo fare pure la casa E Ulisse sta diventando notte Non è tanto Eh lo so Io tornerei in effetti Oh cazzo Abbiamo un po' di terra Per sentare Vuole un bel po' di roba Mi sa Gigi Infatti Io direi torniamo Perché anche La Cigment E Dormire dentro all'hotel Che ne andiamo Per cinque giorni Il bambino Allora Vedi te lo si bravo Inizio Già intravedere Vedi E anche noi Iniziamo a vedere Stronzi Mettica andiamo Oh 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 merdo Oh cazzo Mettico Mettico di quattro La c'è la pecora La c'è la pecora No c'è la porta secondaria Tanto No Il creeper Oh esplosione creeper Umido Seguimi a me Seguimi a me Seguimi a me Vai vai Tu che sei tutto Sto combattendo Non avete idea Di quante stronze Umido Dove cazzo sei? Ne abbiamo idea Non sai quanti ce ne abbiamo Oddio Oddio Oh god Ma noi una volta Ce avevamo i cavalli Una volta Tempo bello Una volta Dove stai? Arrivo arrivo mitico vai vai corri È grave la situazione Sono ordate di stronze Mi vedi umido Ciao zombie Ciao zombie Ti ho visto Ti ho visto bro È senza cassa quella zombie lol Andate nell'hotel che stiamo arrivando Così dormiamo Io sto nell'hotel Oh merda Non me lo ricordo È quello più alto È questo Ma no cosa Aspetta però Non ci chiudere fuori Fai il giro Fai il giro Veloce Tanto non ho ancora finito E vai No Aspetta La birra Questa zombie Già sta iniziando A rompere marroni Qua nell'hotel No Avete mangiato tutti le fence Li bravi Ok ottimo Nelle case Sì ma la giusta Non voglio che trasformano altri Eh lo so Io ce ne ho un po' di cose Allora l'hotel Eccolo qua Entra dentro Entra dentro Sto mangiando Aspetta Entra dentro Mangia la cane di zombie Entra dentro Sto dentro No con questo qua Ce lo entra Oh salvato un villaro Oh a posto Io inizio a farmi un po' di armature Ragazzi Avete tutti tutti sfate in ferro però Sì Proprio meno Sì 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 Se mi dai un piccone Quello mi chiude la porta in faccia Questo è il mio letto No Tu ti è nanna Nanna dai A posto Porca troia Lo devi fare anche dopo Umi dovrebbe dormire Nanna 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 Alleluia Oh stio mi sono svegliato dentro A Cigione Al mio cane Che vero Oh stio ma che cane Che cosa è successo Allora io dovevo ragazzo Visto che nessuno ci ha pensato Ci faccio la farm di funghi Non vuoi Bordello Oh Chi so Sempre i soldi questi qua Fanno Minchia che bel buongiorno No uno zombie contagiato No Perché Creeper Creeper Sì un paesano contagiato Lo dino Che vuoi lo paesano contagiato? No Creeper Eh lo penulcino Mitica Oh Fuck Oh no Ma che cazzo Oddio sto Allora io direi Il tuo strontolino Io direi lavoriamo tutti Alla costruzione di una piccola Cintura di mura No no Eh no Eh sì io la sto già facendo Eh arrivo Mi Ho un po' di coprostone Ragazzi ma non c'è rimasto Neanche veramente più un cavallo Eh c'è un asino Però non ho la sella C'è un asino Sì io troppo Che avrò una fame della madonna Come farò? Eh io morirai Guarda quanto cibo che c'è Nella cesta qua sopra La farm Ma questo non è cibo E' rotta E' carne per merda Ma no ma prendi da qua Vedi sta crescendo Però io ho 12 carote Allora ragazzi Nella cesta Ripianta Sto lasciando 22 di legno Eh anche io ne ho messo Un po' di legno eh Chi serve Il resto me lo tengo Io ho messo 6 carote Dentro la cesta ragazzi Allora essendo io un bravo nerdino Chi ha un po' di coprost Ok grazie Vado a scavare Ah anzimitico mi dai il piccone in ferro Che si vado a scavare io Che sono bravo a scavare Anzi no vado a vado in episodio in cui Cos'è facendo? No farm di alberi Ah beh giusto Eh bravissimo giustissimo Io ragazzi sto iniziendo a fare Che sta fa? In temi qualcos'è cura mio A farlo un po' più fila Eh vieni qua da me Eh tu stai? Eh vado a fare con le scale Ah vado in giro bro Vado in giro bro Vado in giro 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 Avete ancora del ferro Vado in giro Aspetta aspetto lì Vado in giro 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 Ok che ci vado a scavare nel mantra Ottimo Non è vero 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 Arrivo subito allora dammi due secondi Io sono arrivato a metà delle cintamore Io ho visto furia Allora E' furia il capello del west E' finito in tanto la roba Eccomi Ah già sei arrivato lì Oh allora Hai visto tutto? Fatto sì Eh vabbè E' finito tutto Svegli Fa vorrei mi aggiusti questo Posto a posto grazie Eh sì Oh c'è furia c'è furia Ciao furia E' furia cavallo del west Qui è furia Non sta molto bene mi dicono Oh ok Sì vabbè l'ho cavalcato perché mi sembra mi piace cavalcare No Ulissee A lui piace cavalcare I cavalli I cavalli Gigi I cavalli dicono tutti i cavalli Ragazzi noi non abbiamo preso tantissima Di coperto Ma tantissima pietra di regola Di coperto L'ho usata tutta per i cancelli bro Sì per le cinta No senti che forse deve essere sopra Aspetto il secondo che andiamo a vedere sopra Sopra l'ho già presa tutta Mi dico ma tu hai fatto quello più alto o sbaglio tipo Un po' con 2 blocchi Da miniera Non avete capito È fatto un po' più alta vero? Mi sta prendendo Stato andando a fare E' andato prendo la sabbia È dritta e poi Un po' la miniera nostra Quella dove stiamo stagliendo No no si Si ho capito dove è Ma l'hai fatta più alta Come 2 blocchi Per salire più velocemente Si trovi troppo Tu mi prende No E' a me sembra di si Ah si 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 Un po' mi ricordo le scale si 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 è molto più utile E' messo il timer Ulisse vero Eeeeeee BANDICAMPKIN SEIVIO ah, la vendita allora va a tempo vado a scavare un po' di cose mi sembra la cobblestone oppure è un po' di oro un po' di oro sarebbe utile anche me beh ovviamente eh certo eh, vado a minare con te voli oggi dove sei? eh, sono già miniera vedi, a miniera è tipo fuori casa ah, sì, è vero, mi ricordo è tipo basta che cammini io moco oggi già andavo a pigliare un sacco di legna che ci serve eh, infatti andate a prendere un po' di legna ma non buttate tutto giù la... a casa, a casa eh, l'ho visto, l'ho visto, adesso dite perché sennò sono un cavoli ma più che altro servirebbero ok, dei lapislazuli possiamo usare in qualche modo eh, mi sa che commerciavano con lapislazuli eh, stessi ah, ok il col, buono ancora si serve sicuramente torce, antispone ancora legno serve gc da Vespa, non lo vedo è bellissimo comunque la Spax ah, ok la Spax è fantastica, ragazzi io l'adoro eh, chi dice è brutta è davvero davvero non... abbiamo deciso di usarla abbiamo deciso di usarla tutti, quindi esatto quindi gg, chi vuole una cena, c'hai stretta? che c'hai sventata tu? è molto elegante come tex mitico, prendi questa che cosa? che ha sputato questo? vantemi quello che hai sputato? ok, vabbè, siamo fatti una piccola armatura di... ok diciamo... usa un po' di boom mille preferire crescere ste stronti se qualche bada persone mi puoi dire anche quando è notte se almeno sono sicuro di non morire così a... mettilo pure i javoli vai bene damia, metti pure i javoli ok, sto... arrivando in... in cavera? eh, vedi, vedi... vedi, vedi, vedi... si vede comunque in teoria, eh? ehm... mi ricordo che è la tua era, però... ecco qua, un po' di ferro, ma... che cosa di? rezzo, rezzo, non rezzo e poi qua sopra ci vuoi fare qualcosa, no? eh sì, però... eh, però... eh, però... devo crescere, devo vedere quanto sono alti eh, infatti, bravo, bell'idea 1, 2, 3 se ne avessi mi fassimo dei cavalli, ragazzi non è successo un cazzo da mia cavalli ormai sono già andate, non li troviamo più i cavalli tanto quanto è questo dopo se andò anche a questo hai per caso... Umi, parti per caso un secchio, grazie no, non so se non c'è più farlo come c'è più farlo? come c'è più farlo? ho pensato da egoista e mi sono fatto la natura oh, scusa ma che merda guarda no, 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 meglio, meglio, GG dove sei? siamo... qua eh, non sarai più amico mio, sappio buon mille, lo sai, Ulisse eh, qui in caverna ragazzi, giù, 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 giù Ulisse, scusa un secondo mi dica perchè... di cose non crescono sugli alberi diabete se clicco una volta escono tipo di scintile verdi eh, perchè non è più come una volta che serve un buon mille devi usarne non so quanti chiamate di modello del buon mille servono un gioco cervelli di zombie se ne fai le mani di cattiveria esatto il giro togg ok ma sei scemo andiamo a lascia una ascia andiamo andiamo hai una spada certo attacco forza la figa perché il parkour dopo ok allora Umi io direi che cosa fai aspetta aspetta ce lo riuscivo hai del cibo Umi a posto andiamo Umi mi sa che erano sono partiti nella caverna senza cibo mangio sabbia va è una carota oddio to wow ah grazie non sei degra no voglio urbartelo ok allora direi andiamo avanti andiamo trovare la miniera d'oro Umi andiamo a vedere se riusciamo a trovarla va dai va perché ci trovo quella devi trovare la miniera abbandonata è vera si ma il shaft che è quello si peccato non abbiamo la mini map qui per fortuna per fortuna ragazzi potremmo trovare dei cavallini e i cavallini non possono più trovarlo forse possiamo trovarmi noi in giro nel mondo sulle montagne non penso oppure dove siamo morti dove è teletrasportato dove c'è stato teletrasportato siamo morti siamo morti qualche giorno fa Damiano è un po' difficile questa montagna vedi questa montagna qua io ora ce l'ho salito sopra audaci e metti col cavallo anche io mi ha tippato quindi può essere che su quelle montagne si aggira un povero pulidro mi dicono che può anche essere esponato un povero pulidro infatti la cosa che dico io forse è così ma io voglio un cavallo Uli voglio il cavallo basta mi sono stufato ma abbiamo per caso una sella prendiamo un maiale dove è il mio cavallo? prendiamo anche la sella prendiamoci sto cavallo e dobbiamo trovarlo dai scrivete nei commenti se preferite e vederci correre come dei beduini in giro per per betlemme oppure prendere dei cavalli cavalli anche perchè ragazzi i cavalli non ci sono neanche un giorno appunto quindi sarebbe ogni volta un gift di cavalli non c'è oh mi vede qualcosa di strano di lì eh guarda vedo qualcosa di strano di lì eh guarda vedi di fronte lì ah si è una cosa no no ah sembravano montagne di man sembravano dei pilastri è vero è vero io cioè io chiamo che non posso correre più ho trovato dell'oro ehi pia pia prendi portazione la caverna d'oro la vacca no no ho trovato l'oro no non c'è la vacca sai che so dove sono da qua oddio gg come è montagna dove c'è l'oro ecco sei da me anche sull'oro lo sapevi all'esterno oddio giri vieni qua bravi io penso lì sei penso che dentro le montagne ci sia la miniera di l'oro ehh può darsi sai controlliamo allora vedi qua qua c'è questa montagna oddio un maiale un maiale un maiale comunque umi sai che le carote hanno tipo la durabilità più alta di fame vedi la l'oro eh lo so vedi la giù l'oro vedi la giù l'oro prendi prende 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 e non c'è più carote che fatate ah e c'è più con il ligno dovrei venire con ulisse qua ulisse ho trovato tantissimo oro quanto ce ne ho non è che la miniera 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 4 5 6 7 8 blocchi 9 blocchi eh buonga ragazzi mi c'è la miniera umi umi questa è una vacca guarda qua che cosa trovi è una vacca prendi e porta a casa la vacca eh no è troppo lontana amazzale prendi la carne no no ok posso ammazzarla a modo mio posso ammazzarla a modo mio oh uli guarda che mi ha cambiato la texture del carbone ah è caduto guarda guarda che mi ha cambiato la texture del carbone non lo sapevo eh ma io non c'è il piccone oh guardami no prima era praticamente trapezio di tale oh umi è piccone è un po' caduta la munca sai eh si allora prima che faccio la fine di il solito scemo che sono di io perchè quando so queste cose io mi faccio male ecco facciamo così oh mi sa proprio che aveva ragione lì lì ho trotto la miniera ho trovato sentiamo dici ma qua c'è un sacco allora dobbiamo farci anche delle tieni e le tira ragazzi dobbiamo anche andare a cercare dei creeper iniziamo da cercherli ai creeper cerchiamo dei creeper bella bella allora io c'ho un young father stava anche impazzito io ce ne ho un altro oro qua ok ok ragazzi qua è una miniera allora mi dite dov'è che io arrivo con no no ma qua lontano praticamente lì sei vieni dove stavamo gli alberi eh vabbè il lago il lago la mia inizia a fare no la mia lì le montagne sopra le montagne ci sono si si quelle montagne ok allora ragazzi non faccio sotto sotto le montagne allora dove cazzo stai da mia dentro qua bro mi sto andando un secondo che sto un attimo andando so dentro qua chiarissimo io sono arrivato in cima in cima in cima alla montagna bro dove stai tu anch'io mi notte non c'è niente un porco e un bullo gg ok vedi il tuo nome un porco è caduto su tu vedi il mio vieni vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua è inutile la neve ma se facciamo un pozzo di neve nell'esatto che dici? funziona? non credo che ci sia ah no more mi sembra però ah è vero è vero un update ragazzi sono il padrone del mondo yeee lo sono diventato prima io però un creep perché cosa ho lisse c'è ancora lo sopra le cose sono salito è Umi allora direi che ecco direi che stoperei questo video sto scavando qualcosa per questo la miniera diciotto minuti si da bene lo possiamo fare con te ottimo ciao pollo e nel prossimo episodio oh cosa ho trovato ciao pollo trovate una bella cosa per il prossimo episodio Umi si è guardato in mezzo alle gambe roma 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 diamo vola passare a te guardava pari a mario costare solo guarda che figata cosa che stava un altro che hanno mai genutato sbagliato è stato di prezzo e quello di ieri guarda la pagina del lavoro genitore c'è da loro no quello è ferro mi sa è oro no è la optifine vedo che è oro ok ragazzi allora stoppiamo qui questo episodio tocca a uli 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 miss ok va cagare va toccavo miss a registrare e che cazzo state a dire quindi mi raccomando umidami le carote che mangio ho una carota di mia il prossimo episodio lo troveremo io il manzo no mangio la carne ok è un pollo anch'io e il pollo ti fa marcio ok ragazzi nel prossimo episodio canale di uli 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 ciao a tutti ragazzi al prossimo episodio del mio canale bella